Durante il regime nazista fu un'esperienza molto diffusa quella della immigrazione degli intellettuali e non coinvolse soltanto autori legati alla tradizione liberale, democratica o marxista, coinvolse anche autori che erano critici di quella tradizione o forse della modernità in quanto tale. Per questi autori, se volessimo tracciarne un profilo generale, si trattava di guardare indietro nel tempo, soprattutto di cercare nel pensiero e nell'esperienza politica degli antichi la via di redenzione rispetto ai mali del presente. Tra questi autori due soprattutto hanno seguito questa via e meritano di essere ricordati, Eric Fögelin e poi anche Leo Strauss. Leo Strauss fu professore presso l'Università di Chicago e fu anche allievo di Martin Heidegger. Il suo pensiero muove dalla convinzione secondo cui da Hobbes in avanti tutto il pensiero tende a rimodellarsi sul paradigma delle scienze naturali e dunque produce come esiti fondamentali a giudizio di Leo Strauss il liberalismo alla John Locke, la democrazia alla Rousseau e infine il nazismo di Hitler e il comunismo repressivo di Stalin. Ora, a giudizio di Strauss, le ragioni di questi, a giudizio suo, inevitabili esiti di regressione della modernità sono anzitutto da ravvisarsi nel fatale e sciagurato abbandono della dottrina classica del diritto naturale. Secondo Strauss, l'aver abbandonato il diritto naturale ha prodotto e avrebbe comunque prodotto inaggirabilmente esiti sciagurati e tragici. In particolare, la dottrina del diritto naturale si trova nella sua antica e più brillante espressione nella politica di Aristotele. Ebbene, Strauss concorda con il positivismo giuridico di Hans Kelsen nel riconoscere che a base della democrazia vi è una concezione storicistica e relativistica della verità e dei valori. Ma la conseguenza inevitabile di ciò, lungi dall'essere positiva, come riteneva convintamente Hans Kelsen, è per Strauss deleteria. La conseguenza di nichilismo e relativismo non è la democrazia, ma è semmai il relativismo nichilistico e distruttivo delle tirannidi del XX secolo. E proprio sul concetto di tirannide, Leo Strauss svolge alcune delle sue più interessanti riflessioni per cogliere l'essenza stessa della tirannide a partire dalla sua epifania nel mondo greco. Infatti già i greci poterono riflettere, come noto, sulla figura del tiranno, già in Platone, già in Senofonte, già nello stesso Aristotele. In sostanza, dunque, si tratta, a giudizio di Strauss, di elaborare una filosofia politica che sappia individuare quale sia l'ordine politico migliore, quello giusto, in grado di coniugare in maniera armonica la libertà e l'ordine, dando vita dunque a una libertà che non si capovolga in anarchica repressione e in violenza deregolamentata. Naturalmente ciò è particolarmente complesso e non di facile attuazione, spiega Strauss. Da che occorre mettere a punto un sapere pratico, come l'afronesis a cui aveva dato spazio Aristotele, il sapere pratico, un sapere come anche già in Platone in parte era stato teorizzato. Un sapere di questo tipo, che appunto Aristotele chiamava fronesis, deve per un verso discernere il bene dal male, riconoscendo l'esistenza obiettiva in re ipsa di fini buoni, perché iscritti nella natura, ecco il tema del gius naturalismo, e per un altro verso deve svolgere una funzione di persuasione e di guida degli uomini nella loro personale condotta politica ed etica. Sicché occorre, dice Strauss, ripartire dai greci e dall'afronesis di Aristotele per provare a risolvere i dilemmi e le sciagure del presente. Sicché quello di Strauss può essere a giusto titolo considerato un pensiero che si inserisce, si incastona in quella tradizione che è stata detta di riabilitazione della filosofia pratica e che conosce tra i suoi esponenti di punta anche Hans Georg Gadamer e Anne Arendt. La riabilitazione del diritto naturale di marca aristotelica contro il giuspositivismo moderno e contro le dottrine che, a partire dallo stesso Hobbes, hanno prodotto il piano inclinato di errori e di orrori culminati nel nazismo e nello stalinismo secondo Leo Strauss, ebbene questa riabilitazione avviene soprattutto in un testo intitolato Diritto naturale e storia. Quest'opera si apre significativamente con una invocazione dell'asserzione della dichiarazione di indipendenza circa le verità auto-evidenti e i diritti inalienabili. Strauss ricorda ai suoi lettori l'importante ruolo svolto dal diritto naturale nella nascita degli Stati Uniti, la più potente e prosperosa tra le nazioni della Terra, dice senza esitazioni Leo Strauss. Muovendo da questo presupposto, il nostro autore prosegue disegnando un'inquietante prospettiva. La scienza sociale americana è pervasa dallo stesso spirito che caratterizzava il pensiero tedesco prebellico e prenazista. In particolare, aver abbandonato il diritto naturale produce uno storicismo e un relativismo che sono necessariamente forieri di sciagure. Secondo lo storicismo e secondo relativismo, dice Strauss, ogni pensiero dell'uomo non è nient'altro che un accidentale prodotto del proprio tempo. Sicché non esiste in natura nulla in base al quale si possa ragionevolmente optare per la libera democrazia e non per la tirannide. E quindi, mentre la scienza sociale pretende di mostrarci in che modo possiamo raggiungere i fini ai quali tendiamo, allo stesso modo ci dimostra, dice Strauss, come ogni fine sia allo stesso modo privo di senso e di fondamento. Ecco la pericolosità del relativismo e dello storicismo. Ecco perché bisogna distruggere dall'interno lo storicismo usando i suoi stessi argomenti ed è quello che prova a fare Strauss nel suo testo diritto naturale e storia. In sostanza, dice Strauss, ogni teoria trans-storica, investita cioè di una varietà universale, è perciò stesso errata, dice il relativismo. Il pensiero umano è stato e sempre sarà storico, in situazione, soggetto a limitazioni caratteristiche, delle quali è però necessariamente inconsapevole. Ebbene, questa asserzione è tuttavia essa stessa un'asserazione trans-storica, perché si pretende valida universalmente in ogni luogo e ciò produce una tesi contraddittoria assurda. Lo storicismo fa valere per se stesso una tesi che non è storicistica ma che si pretende invece universalistica. E quindi questa fondazione dello storicismo è essa stessa ambigua, dice Strauss, è contraddittoria. Contro le pretese dello storicismo dunque il nostro autore usa gli argomenti propri dello storicismo e mostra come anche il richiamo all'esperienza tipico dello storicismo sia contraddittorio. Secondo lo storicismo, infatti, l'esperienza storica mostra come tutte le teorie del passato riposassero su basi dogmatiche, su principi assunti come validi ma non dimostrati. Lo storicismo allora sostiene che i pensatori del passato erano necessariamente sotto l'influenza della loro situazione storica e così Platone non poteva vedere al di là dell'orizzonte della polis greca, Hobbes non poteva guardare al di là della situazione della guerra civile inglese e così via. Ma, dice Strauss, nemmeno la più sofisticata forma dello storicismo mette mai in discussione l'esperienza storica. Questa vaga e indistinta esperienza è assunta come principio valido e garantito e quindi di fatto si finisce per assegnare alla storicità un principio di auto evidenza e di assolutezza che contraddice il principio stesso dello storicismo. Scrive Strauss, l'evidenza di quelle semplici esperienze circa il giusto e l'ingiusto è la base della convinzione filosofica dell'esistenza di un diritto naturale e quindi confutando lo storicismo Strauss pretende di far valere il diritto naturale richiamandosi già, come si diceva, ad Aristotele. Per quel che concerne il positivismo Strauss prende le mosse dalla tesi di Max Weber secondo cui la ricerca scientifica può esprimersi solo su questioni di fatto e deve tralasciare le questioni di valore. Così facendo Strauss sposta al baricentro dell'analisi dalla possibilità di un diritto naturale a quella di una scienza sociale che contenga valutazioni normative per giungere in ultima istanza alla questione della vita filosofica. Quella di Weber è una figura di nobile nichilismo, dice Strauss, e così facendo Strauss suggerisce come il nichilismo Weberiano non derivi da una semplice indifferenza di valori ma da un'appassionata, anche se non produttiva, ricerca di solide basi per nobili e più alti valori. Proprio su queste basi Strauss giunge a una rivalutazione, si diceva, del diritto naturale. Occorre provare a delineare attraverso la politica l'origine dell'idea di natura e provare in questa maniera a trovare in quest'idea un fondamento per la giustizia, un ritorno all'Aristotele della politica dunque. Il diritto naturale, dice Strauss, è la maniera mediante la quale la natura si esplica nella politica. Ma che cos'è dunque la natura? In diritto naturale e storia Strauss non prospetta una definizione univoca della natura, procede dialetticamente per mostrare come, attraverso la vita politica pre-filosofica, il concetto di natura emerga per la prima volta. Alla parola natura Strauss attribuisce almeno due significati. In primis la natura come caratteristica essenziale di una cosa o di un gruppo di cose, e poi la natura come insieme delle realtà originarie. La vita pre-filosofica, dice Strauss, risponde alle nostre domande riguardo le realtà originarie tramite il potere dell'autorità. Ma l'esperienza di questa vita pre-filosofica può anche portare una persona a dubitare di ciò che gli viene rivelato. Gli uomini accordano più fiducia da sempre a ciò che vedono coi propri occhi, a ciò che conoscono autopticamente, rispetto a ciò che invece viene riferito loro. Se e quando gli uomini applicheranno questa loro preferenza per ciò che è visto, rispetto a ciò che è sentito, alle rivelazioni che hanno avuto, allora diventeranno coscienti, scrive Strauss, della possibilità che la realtà originaria abbia originato tutte le altre in una maniera fondamentalmente diversa dalla creazione volontaria. In sostanza Strauss prova a ripartire dal concetto di natura per depurarlo da tutte le incrostazioni che l'hanno portato infine a eclissare. Che ne è del diritto e della giustizia? L'idea di giusto è solitamente assimilata a quella di legale, conforme alla legge. Ma in realtà, dice Strauss, la legge è il risultato di convenzioni e di accordi. Ciò che è naturale, inteso come necessario e permanente, deve essere distinto accuratamente da ciò che è semplicemente convenzionale. Che i cani abbaino e scodinzolino è un fatto naturale, mentre il fatto che certi popoli non mangino carne di maiale è convenzionale. La distinzione dunque tra convenzionale e naturale, tra physis e nomos per dirla alla maniera greca, è decisiva e sembra consistere nel dubbio circa l'esistenza di un diritto naturale prima che esso sia stato effettivamente scoperto e applicato. Secondo Strauss, l'idea di un diritto naturale emerge allorché si considerino le differenti opinioni circa ciò che è ritenuto giusto come un'occasione per scoprire cosa in verità possa essere detto giusto. Scrive Strauss Mentre le differenti opinioni riguardo a ciò che è indubbiamente convenzionale non danno luogo a nessuna seria perplessità, le differenze riguardo ai principi del giusto e dell'ingiusto necessariamente hanno questo effetto. Il disaccordo circa i principi della giustizia sembra rivelare una perplessità originaria dovuta a un'insufficiente comprensione del diritto naturale, una perplessità causata da un che di autosussistente naturale che impedisce l'umana comprensione. Ecco perché dice Strauss bisogna fare attenzione a quelle dottrine che risolvono la giustizia nella pura convenzione, ciò che Strauss chiama il convenzionalismo, ciò che ad esempio va sotto il segno del nomos per dirla in maniera greca e non della physis. Dice a questo riguardo Strauss che bisogna invece insistere sul tema di ciò che è giusto secondo natura. In particolare occorre ripartire da Aristotele e dai classici che in qualche modo rappresentano, come si diceva, l'orizzonte di senso generale della riflessione di Strauss. Come già si è ricordato, l'aver abbandonato il gius naturalismo e la dottrina dei classici ha portato i moderni a precipitare nell'abisso della tirannide e delle sue forme pur diverse dell'hitlerismo e dello stalinismo, che secondo Strauss sono le due grandi forme della tirannide novecentesca. A questo riguardo Strauss ritiene necessario ripartire dai classici anche per comprendere l'essenza della tirannide e lo fa in particolare soffermandosi sull'interpretazione del Gerone di Senofonte. In quest'opera Strauss cerca di far rivivere il pensiero politico-filosofico classico tramite una attenta lettura del testo di Senofonte. In particolare vuole dimostrare quanto sia utile la lettura di un testo antico pur ritenuto inaffidabile in fondo secondario come il Gerone di Senofonte. In quegli anni infatti si riteneva che Senofonte fosse stato un autore di scarsa intelligenza e di scarsa profondità. Era un pregiudizio probabilmente, sicuramente rispetto a Platone Senofonte che pure fu allievo di Socrate era meno dotato intellettualmente ma non era certo così ingenuo e sprovveduto come si pensava negli anni in cui scrive Strauss. In ogni caso possiamo dire che diventa il testo di Senofonte un banco di prova per saggiare il concetto di tirannide nell'antichità. Già nelle prime pagine del testo sulla tirannide di fatto Strauss mostra come la sua analisi debba essere letta certamente per capire il concetto di tirannide ma soprattutto per poter affrontare il presente e le nuove tirannidi che hanno preso forma. In particolare la scienza politica del presente ha fallito, ha segnato la bancarotta del pensiero politico e prova né il fatto che non è stata in grado di riconoscere come tirannidi lo stalinismo e l'hitlerismo. Il discorso della tirannide è tutto incardinato sul problema della libertà di pensiero. Strauss prova a mostrare come lo studio del Gerone debba essere un indispensabile sussidio per capire pienamente questo problema. Il Gerone è il prodotto della retorica socratica. Ogni società cerca di controllare il pensiero, dice Strauss, e la retorica di Socrate è un modo per frustrare questo tentativo. La retorica socratica infatti è una forma di insegnamento esoterico, una forma perfezionata nella tipologia del dialogo. Sicché Socrate, esponendo il pensiero in forma obliqua e indiretta, riesce a fornire molti indizi di interpretazione al lettore che desidera conoscerlo e riesce in qualche modo ad aggirare gli ostacoli dell'occhiuta censura e della repressione. Strauss resta legato per tutta la vita alle riflessioni tratte dallo studio e dalla lettura dei testi di Senofonte. Nel suo importante scritto Il discorso socratico di Senofonte scrive testualmente, la nostra epoca si vanta di essere più aperta e illuminata rispetto all'epoche passate, ma è sicuramente cieca di fronte alla grandezza di Senofonte. Si potrebbero fare numerose riflessioni sul nostro tempo leggendo e rileggendo le sue opere. E anche da questa riabilitazione di Senofonte da parte di Strauss affiora con limpido profilo la preferenza nettissima che il nostro autore accorda agli antichi rispetto ai moderni. Ecco, l'intera sua opera, come già si diceva, è caratterizzata da una sfiducia verso il moderno e da una fiducia a tratti anche idealizzata ed esagerata verso gli antichi. Ciò emerge negli studi su Senofonte e Savassandir, ma anche nella già citata opera Diritto naturale e storia, dove è caratterizzante una preferenza netta accordata alla filosofia politica dei classici, segnatamente Platone e Aristotele, ritenuti superiori nettamente rispetto ai moderni. In particolare Strauss analizza con attenzione la dottrina classica del diritto naturale per poi affrontare in seconda battuta quella dei moderni. Sono portate alla luce soprattutto le differenze tra le due teorie e l'analisi è tutta sbilanciata a favore degli antichi. In primo luogo, dice Strauss, nella visione classica le riflessioni morali e politiche sono svolte alla luce del perfezionamento dell'uomo e dei suoi fini, laddove nella riflessione moderna traggono spunto dall'origine dell'uomo, dallo status natura. E poi, in secondo luogo, per i classici l'uomo è un essere per natura socievole, uno zon politikon, come diceva Aristotele. Per i moderni, invece, l'individuo viene prima della società, alla maniera obsiana, per cui nello status natura ci sono singoli individui già formati che poi solo secondariamente si aggregano in forma pattizia e contrattuale con il pactum subiezionis, che è anche un pactum unionis. In terzo luogo, dice Leo Strauss, il fine della vita politica è diverso. Per gli antichi l'attività politica è volta a realizzare la virtù umana. Per i moderni il fine dell'attività politica è quello di far uscire l'uomo dalla condizione di insicurezza, quella del bellum omnium contra omnes, tratteggiata da Tommaso Hobbes. Una quarta differenza riguarda l'essenza stessa del fenomeno politico-sociale. Per gli antichi l'essenza è il governo, cioè il modo di vivere integrale di una società, incarnato in ciò in cui maggiormente si aspira. Laddove, invece, per i moderni viene minimizzato, viene ridotto al grado minimo il concetto di governo a beneficio di ciò che essi considerano l'istanza politica morale per eccellenza, vale a dire il diritto all'autoconservazione, il diritto di conservare se stessi. Altri due punti importanti di disaccordo fra antichi e moderni, ad esempio i classici sostengono che la teoria politica ha la necessità di essere affiancata e guidata dalla saggezza pratica e dalla prudenza dell'uomo. I moderni, per parte loro, tendono a ridurre l'importanza della responsabilità umana in politica e a enfatizzare l'importanza delle istituzioni. Altra questione importante riguarda il fatto che gli antichi esaltano come migliore, per natura, la vita filosofica. I moderni, invece, dice Leo Strauss, di fatto pensano altrimenti e hanno abbandonato l'idea di perfezione naturale. Ecco perché sotto questo riguardo bisogna ripartire dagli antichi. In particolare, gli antichi, secondo Strauss, coinciderebbero con un modo di pensare che oggi si direbbe conservatore e sicuramente la filosofia politica di Strauss va sotto il segno del conservatorismo, così almeno venne inquadrata e anche criticata. In realtà, leggendo diritto naturale e storia, si nota come Strauss insista moltissimo su una sorta di moderazione che non fa di Strauss un pensatore conservatore in grado radicale. In particolare, Strauss ritiene fondamentale ripartire dagli antichi per arginare gli orrori del presente, quindi il suo è un conservatorismo, è un conservatorismo riflessivo.